Eccoci pronti amici per la nostra rassegna stampa mattutina, oggi è sabato 8 ottobre 2022 e vediamo subito qual è il santo che abbiamo scelto oggi nel libro dei Santi del giorno, è Santa Pelagia, eccola nella grafica Santa Pelagia di Antiochia, Antiochia era la terza città dell'impero romano quindi era una città importante, nacque nel terzo secolo appunto in questa località e dopo una vita dissoluta fu convertita dal vescovo nonno, non era un parente ma proprio il suo nome di battesimo era nonno, distribuì allora i suoi beni ai poveri ed allora condusse un'esistenza da Eremita nella città santa di Gerusalemme e oggi noi ricordiamo questa santa per la sua virtù dopo aver condotto una vita dicevo non certo di carattere cristiano. Diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo, vediamo come oggi i cieli sono in prevalenza nuvolosi, questa mattina il cielo è più coperto rispetto alla giornata di ieri, abbiamo i venti che saranno al mattino moderati da sud ovest, al pomeriggio moderati da est, il mare è quasi calmo, le temperature oscillano da 16 ai 22 gradi, non dovrebbe piovere, comunque il cielo è velato rispetto in misura maggiore rispetto ai giorni scorsi. E diamo un'occhiata anche ad un'immagine fanese questa mattina, vediamo piazza 20 settembre, oggi è sabato, c'è mercato e le bancarelle sono già aperte e aspettano i loro clienti nel cuore della città di Fano, un mercato questo che è una risorsa anche per i negozi a posto fisso perché attira gente e a Fano, unica fosse città delle marche, la piazza centrale viene dedicata al mercato per due giorni alla settimana, il mercoledì e il sabato e quindi è un centro di attrazione che continua ad attirare gente. Bene ci ho detto, diamo un'occhiata subito ai giornali partendo dal resto del Carlino. Vediamo che l'apertura è dedicata ancora all'impianto agrivoltaico che si dovrebbe fare o non si dovrebbe fare, anzi meglio dire quest'ultima espressione, nelle colline di Carrara. Edifici pubblici vicino all'impianto e quindi questo non si può fare. Ebbene il Comune di Fano ha individuato un'altra ragione per dire no a questo progetto, ovvero la vicinanza ad alcuni edifici pubblici che appunto come prescrive la legge non può essere realizzato. Il parco agrivoltaico da 45 ettari non si può costruire per la presenza a Carrara di due edifici pubblici. Una ex scuola e un ex stabile ERAP che ha più di 70 anni ed sono vincolati dalla soprintendenza. L'impianto proposto dalla TEP Renewables che dovrebbe a meno di un chilometro, si troverebbe a meno di un chilometro, ha appunto in cocca, in patta su questa disposizione di legge ed è quanto sostiene l'amministrazione comunale che è già inviato l'osservazione al Ministero della Transizione Ecologica dove il progetto è stato presentato del Ministero appunto che dovrà decidere sentiti i pareri della Regione e del Comune di Fano che però non sono vincolanti, quindi dovrà dare il suo assenso o dissenso al progetto del campo. E poi parliamo di dissesto ecologico. Più il suolo è privo di alberi, maggiore è il rischio di alluvioni. C'è un intervento questa mattina sul giornale, sul resto del Carlino, un intervento dell'associazione ambientalista Lupus in fabola che dopo l'allarme lanciato sul rischio di esondazione del torrente Arzilla, indica le regole utili per la gestione dei torrenti, dei fiumi e dei canali, ovvero rinforzare gli argini, togliere la vegetazione dall'alveo, rimuovere gli alberi caduti, ma non tagliare quelli lungo le sponde che hanno la funzione di trattenere il greto del torrente, l'argine del torrente e quindi impedire all'acqua che questa spinga con forza l'argine di contenimento e quindi debordi verso le aree vicine. Dunque consigli utili da parte di Lupus in fabola. E ancora sul Corriere Adriatico abbiamo un articolo di carattere politico. È Riccardo Tonti Bandini che era candidato alla segreteria del PD per futuro democratico che oggi interviene e analizza un po' le ragioni per cui il PD ha perso le elezioni. Il PD ha perso oltre alle elezioni ma ha perso la fiducia degli elettori, dice. Futuro democratico spinge una riflessione urgente convocando subito una assemblea. Una convocazione urgente dell'assemblea generale degli iscritti è quanto chiede questa lista. Futuro democratico che spinge perché anche a livello locale si affronti e si analizzi la pesante sconfitta ottenuta il 25 settembre scorso quando appunto Fratelli d'Italia è stato il primo partito della nazione. Lo fa presente Riccardo Tonti Bandini il quale vuole anche discutere con i compagni di lista che cosa sia il PD come intenda andare avanti e con quale classe dirigente. Quindi una riflessione importante da parte del PD che a Fano rimane ancora il primo partito della città. E poi si parla di incidenti sul lavoro. Una volta all'anno la sezione di peso urbino dell'ANMIL che è l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi organizza un convegno nel quale richiama l'attenzione dei cittadini, delle istituzioni sugli incidenti del lavoro e fornisce i dati di quanto è avvenuto durante l'anno in merito a questo dramma che purtroppo si ripete nel nostro territorio a carattere provinciale ma anche a carattere regionale e nazionale. Questo convegno quest'anno sarà a Cartoceto. Cartoceto ospiterà l'incontro che celebra la settantaduesima giornata provinciale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Sarà appunto un'occasione per dare dei dati interessanti, viene anticipo a qualcuno. Il dato comunque è pesante, il dato degli infortuni sul lavoro per fortuna non letali. Il dato ha evidenzia una crescita del 16,3% rispetto all'anno precedente, dalle 2.515 dei primi otto mesi del 2021 alle 2.925 dello stesso segmento temporale del 2022. In otto mesi si sono verificati quest'anno nella nostra provincia 2.925 incidenti sul lavoro. Ancora peggiore è il quadro regionale con gli infortuni incrementati non del 16,3% come nella provincia di Pesaro ma del 25%. Nonostante la grave decludescenza del fenomeno infortunistico, la sicurezza nei luoghi di lavoro non riceve ancora la giusta considerazione, ha dichiarato il presidente dell'Anmile di Pesaro Urbino Francesco Mazzacchera. Dovrebbe invece essere la priorità e la manifestazione di domani a Cartoceto è un'occasione importante per sensibilizzare le istituzioni nei confronti di questo grande problema, così ha detto appunto Mezzacchera. E passiamo ad Urbino dove il sindaco Gambini annuncia che nasce un nuovo polo industriale H Guerra. Si tratta di un'area vicina ai comuni di Sasso Corvaro Auditore, Tavoleto e Monte Calvo in Foglia. Gambini porterà ricchezza alla Valle del Foglia, tutta la Valle del Foglia. Il polo sarà legato alla meccanica e alla produzione di generatori e altri impianti e partirà con l'insediamento di una grande impresa in forte espansione che sta presentando un progetto attuativo importante perché necessita di spazi per allargarsi. E quindi vediamo qui questa piana che al momento ha una funzione prettamente agricola che dovrebbe essere trasformata in area industriale, l'area di Cà Guerra, un nuovo polo industriale per la Valle del Foglia e speriamo che porti lavoro e benessere agli abitanti. Diamo anche la notizia che la lista Universo Studenti ha vinto le elezioni all'Università di Urbino e guadagna tre seggi in Ateneo, due posti ad azione universitaria. Gli esponenti della lista che ha prevalso nel duello sono ovviamente soddisfatti del risultato. E poi vediamo anche il titolo che si riferisce al Festival del Giornalismo Culturale in atto in questi giorni nella città Ducale. L'avanzata dei social, il giornalismo si interroga. Il Festival di Urbino privede oggi un'altra ricca giornata. A inaugurarla sarà la direttrice del resto del Carlino, Agnese Pini. Intanto ad Urbania un murales con i simboli dello sport locale Sensi Ribaldoni e il Volli. Dove c'erano graffiti e una zona da valorizzare ora, accanto a dei campetti per ogni sport, ci sono le icone di Stefano Sensi, di Rodolfo Rombaldoni e dei 50 anni della pallavolo Durantina. Quindi un omaggio ai trascorsi e alla vocazione sportiva appunto di Urbania. Diamo un'occhiata anche alle pagine pesaresi del resto del Carlino e vediamo come, vediamo l'inizio della pagina pesarese, vediamo come si parli di viabilità, poi si parla anche dello stesso argomento sulle Corriere Adriatico. Perché? Perché c'è stato un incontro tra Claudio Cerbarano, che è il rappresentante della società autostrade e il sindaco Matteo Ricci. Si parla di circonvallazione, circonvallazione pronta per l'estate. Questo è il titolo che evidenzia oggi il resto del Carlino. E poi si parla anche della bretella, fratelli Gamba. Si muovono i primi passi. Ieri è stato fatto il punto anche sulle altre opere compensative per la terza corsia dell'A14. Santa Meneranda può attendere, mentre per il raddoppio degli interquartieri si rivede anche qualche spiraglio. Ebbene il raddoppio degli interquartieri dalla celletta a via Solferino non è stata cancellata. C'è ancora nei progetti, ha detto Cerbarano, ma bisogna trovare 5 milioni di euro. Come fare? Cerbarano ha detto forse non saranno 5 milioni, saranno una cifra inferiore e speriamo di trovarla. Intanto ha parlato anche delle cantiere che dovrebbe proseguire con tempi celeri. Via Carloni però sarà chiusa al traffico. Questo dovrebbe essere l'unico intervento che va ad impattare sui flussi del traffico. Ebbene, ma non è un intervento da poco, perché chiudere via Carloni per quattro mesi, come evidenzia quest'altro articolo, un altro articolo che comprende un'intera pagina del Carlino, desta qualche problema. Sarà caos traffico. Ecco come Cavass la dice il titolo. Stoppa le auto tra via Pantano e via Giorgi per consentire a società autostrade di accelerare i lavori della nuova circonvallazione. Da venerdì scatterà il provvedimento. Intanto il Comune presenta la viabilità alternativa, ma prepariamoci a un lungo periodo difficile, consiglia appunto il quotidiano. Ed ora vediamo come si sta concludendo la vicenda del medico Massimiliano Mecozzi, un medico omeopata che ha curato un bambino non con gli antibiotici, ma con medicine e con metodi alternativi. Ed ora ne deve rispondere di fronte al giudice, perché il bambino è deceduto. Lui è accusato di omicidio colposo per la morte del piccolo Francesco Bonifazi, che nel 2017 aveva sette anni. Ebbene, ieri si è svolta nel Tribunale di Ancona l'udienza dedicata alla discussione delle parti, l'ultima prima della sentenza. E il PM ha chiesto una condanna piuttosto importante, quattro anni di reclusione e il giudice deve presentarsi, deve pronunciarsi su questa richiesta. E poi i giornali continuano tutti i giorni ad evidenziare gli effetti negativi dell'aumento delle bollette Il Caro Vita. La bolletta della cucina a gas da 26 a 994 euro. Questa volta non si tratta veramente di un aumento della bolletta, ma si tratta di un clamoroso errore compiuto da ERA. Ebbene, non si può basarsi su un conteggio presunto ed aumentare una bolletta da 26,98 centesimi, da 26 euro e 98 centesimi, portarla a 994 euro. Insomma, veramente è un calcolo impossibile. Ebbene, il destinatario di questa bolletta è insorto, ha presentato il suo ricorso alla società. Prima quest'ultima ha risposto adesso la paghi, poi la rimborseremo nelle prossime bollette. Non c'è stato verso perché a pagare 994 euro non è una cosa semplice. L'utente si è dissociato e allora la società ha detto adesso stracci quella bolletta, gliene rimanderemo un'altra calcolata su un presunto importo più proponibile, insomma, più giusto e vedremo come andrà a finire anche in questo caso. E vediamo qui, scopriamo, leggendo questo articolo, che Luciano Salce, di cui si ricorre un anniversario, cento anni dalla nascita, aveva degli addentellati con la città di Pesaro perché sua madre era pesarese, tant'è che la signora è ovviamente deceduta ed è sepolta nel cimitero centrale. Salce le radici pesaresi dell'attore e regista. Nella ricorrenza dei cento anni dalla nascita riemergono i suoi legami con la città di cui era originaria la madre, Clara Sponza. Ne parla un cugino. Si tratta di Sandro Bisetti, che è un commercialista, figura e professionista molto noto in città. Ebbene, il signore Bisetti dice che Luciano Salce veniva sporadicamente a Pesaro. Quando era a Pesaro si fermava due o tre giorni, rimaneva circoscritto nella sfera dei pareti, c'erava poco in città. Comunque la città lo ricorda, insomma, perché è un personaggio importante nella storia del cinema, specialmente quello del dopoguerra. Fondi all'impresa, ecco lo sportello unico. Finalmente un nuovo servizio della nostra provincia per gli imprenditori, i quali per avere notizie prima dovevano, anzi ancora oggi, devono recarsi in Ancona. Quindi avere un punto di riferimento in provincia è importante. Fondi all'impresa, ecco lo sportello unico, per avere informazioni, per avere come si procede appunto per richiederli, attivato da Svem e Camera di Commercio nella sede del corso, lì sarà possibile sapere tutto dei bandi e delle pratiche. Pensare che uno dalla Carpegna, per capire se la sua domanda era accettata, a che punto era accetta, doveva recarsi in Ancona, certo non era una cosa agevole, adesso invece dovrà percorrere soltanto 70 chilometri, poco meno, per arrivare a Pesaro e quindi un servizio più agevole per i professionisti. E voglio concludere l'esame del resto del calino questa mattina con una notizia curiosa, forse non molto conosciuta. Ebbene, Montelabate celebra il Papa morto nell'abbazia. Un Papa morì nell'abbazia di San Tommaso in Foglia. Era la primavera del 1047. Al monastero di San Tommaso in Foglia fece sosta il convoglio papale in viaggio verso Roma. Clemente II era malaticcio, non stava bene e durante il viaggio si aggravò. Il corteo si fermò appunto nel convento di San Tommaso in Foglia e qui le condizioni del pontefice si aggravarono e il Papa morì. Montelabate ricorda quell'evento. Domani ricorre il 975esimo anniversario della morte di Papa Clemente e quindi Montelabate celebrerà con particolare solennità tale ricorrenza, facendo memoria di questo antico pontefice che ha segnato profondamente la storia del nostro territorio. Ricevete anche in momenti la visita di San Pier Damiani, il monaco della Bellana che lo aggiornò sulla scandalosa situazione delle diocesi nell'alta marca e invitò il pontefice ad intervenire per risollevare la chiesa dalla grave decadenza. Insomma c'era un allentamento dei costumi. Ed ora passiamo al Corriere Adriatico. L'articolo di apertura è dedicato ad un incontro che c'è stato ieri in comune con il sindaco Massimo Seri e il sindaco all'ambiente della regione Marche Stefano Aguzzi. Vediamo qui anche i due assessori, l'assessore Barbara Brunori e il nuovo assessore all'ambiente Cora Fattori. Il grido d'allarme lanciato dai residenti della zona dell'Arzilla in merito all'invasione della vegetazione non è stato trascurato dall'amministrazione comunale che ieri ha cominciato a considerare seriamente la situazione. L'Arzilla è un torrente capriccioso che da un semplice rigagnolo si può trasformarsi in un torrente in piena, un torrente tumultuoso che può debordare dagli argini ed invadere le case circostanti. L'ho fatto diverse volte, ha invaso, ha inondato molti campi nella zona di Centinerola ma anche le abitazioni nei pressi della foce. E quindi si cerca di correre ai ripari. Il sindaco Stefano, il sindaco Massimo Seri ha cercato la collaborazione della regione Marche perché poi intervenga, perché poi la cura dei fiumi ha una competenza anche regionale. Quindi si cercherà di studiare la situazione per fare un taglio della vegetazione e liberare il letto del fiume dagli ostacoli che ora impediscono ad un'eventuale ondata di piena di scorrere velocemente verso la foce. Defibrillatori alla Darsena Borghese e al Foro Boario. Una bella iniziativa della Egofilm. La Egofilm ha prodotto diversi film a Fano e ultimamente aveva fatto una serie con il commissario Moretta. Commissario Moretta è interpretato da Luca Longarini che purtroppo è venuto a mancare improvvisamente alla fine del 2021. Ebbene per ricordare questo attore benamato beniamino del pubblico fanese, la Egofilm ha acquistato due defibrillatori. Uno verrà donato, verrà sistemato alla Darsena Borghese proprio nella giornata di mani quando verrà trasmessa anche una puntata del commissario Moretta. L'altro invece sarà posizionato al Foro Boario. Acquistati con il ricavato delle anteprime del film dell'attore Luca Longarini. Basta con gli interventi al Pincio, troppi rischi per gli autobus. Fratelli d'Italia, dopo la denuncia degli autisti che avevano evidenziato le difficoltà di manovra degli autobus durante gli eventi che si svolgono al Pincio, l'ultimo per esempio la Festa dei Fiori, denuncia la difficoltà degli autisti rispetto alle centinaia di studenti in transito. Ebbene il Pincio è una zona particolare, è una zona archeologica bellissima da visitare, è una zona di transito per gli studenti che si recano a scuola, che giungono da altre località e quindi è anche una stazione dei bus. In realtà la stazione dei bus è stata trasferita nei pressi della stazione ferroviaria, ma lì rimane una sosta, una tappa del trasporto pubblico. A questo punto gli autisti hanno evidenziato una situazione di pericolo e ora Fratelli d'Italia invita l'amministrazione comunale a rivedere l'organizzazione di eventi in questa zona, che è molto bella e quindi viene così desiderata dagli organizzatori di tali manifestazioni. Poi abbiamo su una presa di posizione di Enrico Nicolelli, che in Consiglio Comunale aveva dato la sua idea per quanto riguarda la strada di collegamento della scuola di Cucurano-Carrara a Cucurano con la Flaminia, ponendo delle perplessità, evidenziando delle perplessità sulla realizzazione di tale strada. Che errore dice collegare via Dubcek con la Flaminia? Perché? Perché in questo caso si attira il traffico nei pressi della scuola e poi non si pone in sintonia con la filosofia della città dei bambini, che invita a avere dei percorsi soprattutto ciclabili e pedonali e non carrabili. E poi c'è un altro aspetto importante, quale il fatto che trattandosi di un comparto edificabile, la strada dovrebbe essere costruita a scomputo degli oneri e non con risorse dell'amministrazione comunale. Ebbene questa presa di posizione però non ha prevalso nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, quando la maggioranza, seppur con diversi dissensi, ha approvato una delibera per la realizzazione di questa strada. Oggi si tiene un altro importante incontro organizzato dalla Fondazione Carifano alle ore 10. Si tiene nella sala di rappresentanza della Fondazione stessa. Si parla di terzo settore, si parla della riforma che è in atto per quanto riguarda le associazioni di volontariato. Riforma importante perché propone degli interessanti agevolazioni fiscali, ma anche degli addempimenti a carico delle associazioni, primo tra tutti la revisione dello Statuto. Ci sono illustri relatori che parlano appunto di questo argomento e tutti coloro che gestiscono un'associazione di volontariato saranno certamente interessati alle ultime novità in questo senso. Due edifici sottoposti a vincolo, niente impianto fotovoltaico. Anche il Corriere Adriatico interviene sulla vicenda del campo agrivoltaico di Carrara, evidenziando la scoperta di Fanesi. Ci sono edifici pubblici, quindi quel campo non si può fare. Invece per quanto riguarda Frontone, abbiamo la rivolta dei gestori delle stazioni montane che accusano gli ambientalisti di aver influito con le loro decisioni sugli eventi che si sono verificati recentemente di dissesto geologico nel territorio. Ebbene, siamo in conclusione. Oggi è sabato, vediamo cosa ci dicono i giornali di sport. Per quanto riguarda la visse, con il VAR sarebbe seconda. Adesso abbiamo bisogno dei tifosi. Sassarini interviene sulla gara di domani con il San Donato alle ore 14.30. La missione da compiere è in vista del derby di Rimini, quindi un impegno con il San Donato ma con un occhio a Rimini. Mentre per il Fano Roma City è da battere. Mosconi recupera Broso domani al Mancini alle ore 15 con l'ennesima squadra della Capitale. Capezzani è incerto. Ebbene, dopo la sconfitta col Porto d'Ascolo, insomma, il riscatto è con il Roma City. E questo è tutto per oggi. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 7. E intanto vi auguro un buon weekend, una buona domenica, una buona giornata. Grazie per l'ascolto. A risentirci.